Eccoci qui, siamo qui con le nostre aromatiche, le erbe aromatiche di Aismi, il 19, il 20, il 21 di giugno 2020. Essere qui oggi a distribuire le nostre piante aromatiche circondate da queste moto, da questi volontari favolosi che ci stanno dando una mano nella distribuzione è veramente un appello alla solidarietà. Siamo felicissimi della collaborazione che si è installata tra Aismi e Angeli in moto. In queste giornate hanno consegnato a casa delle persone migliaia in tutta Italia di piantine di kit aromatiche permettendo alla nostra associazione di sostenere i servizi alle persone con schelosi multipla. È un grazie, è un inizio e sarà sicuramente una relazione e qualche cosa che durerà per sempre. Ne sono sicuro, ne siamo certi. O no ragazzi? Grande Marco! Grazie! 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 Buona serata e grazie ancora! Grazie a te! Ciao! Ciao, grazie! Ciao! Ciao! Ciao!